la domenica con le persone chiuse in penombra stile soft ecco qua tutto bello fresco troppo caldo così hanno tipo un po' di frescura con le persone chiuse dove sono buttati fuori ciao Roxy bella Roxy tutti in alto sono tutti in alto fuori c'è un caldo da morire c'è un caldo bella via qua è bello fresco che ancora è l'umido che abbiamo lavato a terra ciao Maito scusa volevo fare vedere Winston dove è Winston e Winston dove è è sceso si vede che a terra tutti buttati all'ombra ecco l'ombrellone stile Hawaii e poi tutti i menati al soda questo lo devo lavare ah là è rimasto tutto abbiamo fatto la cattura della stupidina di di Clementina abbiamo sconvolto tutto grazie a tutti